Analisi statica del codice con SonarCube per un progetto .NET C Sharp Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a vedere come configurare un progetto all'interno di SonarCube in particolare per C Sharp. Per saperne di più su che cos'è l'analisi statica del codice e SonarCube ti invito a vedere il video che metto in descrizione dove faccio un'introduzione appunto a questi due argomenti. Per saperne di più su che cos'è l'analisi statica del codice e SonarCube ti invito a vedere il video che metto in descrizione dove faccio un'introduzione appunto a questi due argomenti. Alla fine di questo video avremo duplicato la configurazione di questo progetto eShop che ho già nel mio SonarCube che è un progetto di un e-commerce fatto in C Sharp. Allora partiamo subito. Come faccio? Vado su Create Project e faccio Manually. Quindi perché SonarCube permette l'integrazione anche e ha dei wizard con strumenti come Azure DevOps, GitHub e GitLab ma in questo momento voglio andare a mano per fare tutti i passaggi passo passo e rimanere sulle basi. Quindi facciamo eShop e poi ci metto YouTube Project Key, quindi questo qui è il display name, il nome che si vede nell'interfaccia grafica per gli utenti, mentre la chiave di progetto eShopYT è la chiave che andiamo ad utilizzare quando diamo comandi di SonarCube, lanciamo le analisi, facciamo le integrazioni con DevOps e così via. E fa fede questa project key. Diciamo il branch name principale, mi pare che sia main, quindi perfetto, io faccio setup. A questo punto viene creato un contenitore nuovo vuoto che si chiama eShopYT e io vado a configurare a mano per poter lanciare le analisi in maniera locale. Nulla mi vieta poi di fare la mia automazione con uno degli strumenti che vediamo qui sopra, il mio preferito, però voglio andare a manina per rimanere sulle basi e vedere proprio sotto il cofano cosa succede. Quindi faccio il locally. Mi viene chiesto di generare un token con già tutti i valori predisposti, quindi questo token serve per autenticarmi quando faccio dell'automazione per autenticarmi come me stesso e avere quindi i permessi che saranno opportunamente configurati nella sezione di administrator, administration, io qui sono amministratore globale mondiale, posso fare quello che voglio. Quindi metto analyze eShopYT, è solo un nome descrittivo, dico che non mi scade mai così se lo riuso oppure scelgo la scadenza che preferisco. Faccio generate, questo me lo prendo, non si sa mai sparisca, ma se mi ricordo bene mi viene poi riproposto. Comunque me lo metto in un notepad, qui non si sa mai. Allora, faccio continue, dico che è un .NET, posso fare praticamente quasi tutti i linguaggi con, non so, un archive per .NET, ho delle facilitazioni e mi limito a seguire quello che mi viene detto qui. Quindi io mi metto nella radice del mio progetto, nei miei sorgenti in G-Sharp, sono dentro eShopInWeb e qui ho le due solutions, sono in radice. Quindi quello che faccio è installare un tool che mette a disposizione SonarCube, in particolare per .NET, che serve per facilitare l'integrazione e l'analisi. Quindi faccio .NET Tool Install Global, .NET Sonar Scanner. Faccio un copia così non digito e faccio invio. Ovviamente il tool da me è già installato perché ho già fatto delle prove, ma l'installazione va a buon fine. Dopodiché siamo pronti per cominciare. A questo punto faccio .NET SonarScanner Begin, che appunto vado a richiamare il tool installato grazie al .NET Tool Install, posso dire .NET SonarScanner Begin, chiave di progetto, l'url a cui contattare SonarCube e la login dove metterò il mio token che mi viene già proposto da Sonar. Quindi faccio un'copia e faccio un'incolla. Quindi vediamo tutto. Il mio Sonar sta girando su localhost indirizzo 9000 perché lo sto facendo girare su in formato container, come abbiamo visto nel video introduttivo. Faccio un Begin, in particolare per il mondo C Sharp. .NET SonarScanner Begin prepara il compilatore del C Sharp, tutto il mondo di Roslyn Analyzer, affinché riesca a fare le sue analisi. Diciamo che c'è un'integrazione con il compilatore del C Sharp. A questo punto quello che vado a fare è una build tranquilla, proprio .NET Build, che viene suggerito così, e faccio invio. Dice giustamente che direi la solution perché ne ho due qui dentro, quindi faccio ls, .NET Build e io mi becco e shop onwebsln. compilo. A questo punto vediamo anche che proprio si è iniettato Sonar, vediamo dai log che c'è qualcosa di suo. Lo lasciamo andare. Ok, in 11 secondi abbiamo finito. Adesso vado a prendere il comando che ho, .NET SonarScanner End, che c'è qui, e faccio copia. Questo effettivamente dà il comando su SonarCube per processare ciò che gli è stato preparato e inviato durante la compilazione. Viene proprio fatto tutto, vengono mandati i file e viene avviato il motore di analisi di SonarCube. Lo lasciamo andare. Ha finito ed eccoci qui pronti per andare a vedere cosa è successo nel portale. Quindi apro il mio SonarCube, vado in Homepage e abbiamo, ovviamente con gli stessi numeri, manca la coverage. Vediamo come farla, ci arriviamo per quanto riguarda il mio progetto e shop YouTube che abbiamo appena fatto. Siccome sono appassionato di tutto quello che sono i test automatici e il testing dei sorgenti, vado a vedere come fare la coverage. Quindi andare a trovare quella percentuale di righe di codice che sono coperte nei test automatizzati presenti in questa soluzione. Per collezionare i dati riguardo i test, in particolare la code coverage, devo variare leggermente i comandi che abbiamo visto poco fa. Quindi mi riprendo il begin, che era questo qui, e vado ad aggiungere in fondo, insomma, un nuovo parametro, che è Ok, quindi il percorso dove lo scanner troverà l'esito della mia code coverage analizzata da .NET coverage. Quindi faccio begin, poi faccio partire .NET tool install, meno meno global, .NET coverage, nel caso non lo avessi installato. Da me c'è già, quindi mi dice redinstalled. Poi faccio una build, ci metto build eshop.websln, meno meno no meno incremental, mi assicuro di ricompilare completamente tutto senza sfruttare compilazioni incrementali. Quindi a questo punto mi prendo il comando .NET coverage collect, va a collezionare i dati di cosa, di un'esecuzione di .NET test, ma gli devo dire la solution eshop.websln. In formato XML, il coverage XML, questo qui deve corrispondere col nome che gli ho dato sopra. Va bene, faccio partire. Ho sbagliato il nome della solution. Manca una on. Eccolo qui. Adesso partono i test. Lasciamo andare. Ok, cominciamo a vedere i verdi. Abbiamo tutti questi test che stanno passando. Benissimo. Perfetto, code coverage result. Qui a questo punto vado a dichiarare l'end dello scanner. Con .NET, sonar scanner, end. Questo fa effettivamente partire l'analisi su SonarCube. Lasciamola andare. Qui vediamo il parsing Visual Studio Code Coverage. Quindi dei risultati che gli abbiamo mandato. Execution success. Ora vado qui, faccio F5. E mi ritrovo, ovviamente avevamo fatto un clone di quello che avevo già fatto, la stessa percentuale di code coverage. Quindi posso andare a vedere la coverage anche qui dentro e farmi un'idea di quelli che sono le parti più o meno coperte da testa della mia applicazione. Bene, per oggi con l'analisi statica del codice per un progetto di C Sharp ci fermiamo qui. Nei prossimi video vediamo come farlo con una Azure Pipeline per automatizzare tutto questo e condividerlo con il team in piena filosofia e pratiche DevOps. Se da questo video hai imparato qualcosa o ti è piaciuto, mi raccomando iscriviti al canale, lascia un mi piace e così sarai notificato sui nuovi aggiornamenti. Ciao!